In questo video scopriremo come navigare nelle schermate di preparazione e di selezione dei materiali su Cricut Design Space. Vediamo come completare un progetto su Cricut Design Space. Quando il progetto è pronto, cliccate sul pulsante verde Crealo nell'angolo in alto a destra dello schermo. Da qui arriverete alla schermata di preparazione, che vi permetterà di apportare ogni modifica necessaria sul tappetino. Per esempio, se volete fare più tagli dello stesso progetto, potete usare questa funzione per aumentare le copie sul tappetino. Ricordatevi poi di cliccare su Applica. Potete inoltre spostare i progetti sul tappetino per risparmiare materiale. Una cosa molto utile se avete più forme differenti sul tappetino. Stavolta non useremo questa funzione perché taglierò una sola decalcomania, ma sappiate che avete questa possibilità nel caso vi serva. Se lavorate con Infusible Ink o con Iron on Cricut, ricordate di cliccare su Mirror. Il tasto di scelta diventerà verde e il progetto sarà girato in modo speculare, cosa del tutto normale per questi due materiali. Ora disattiverò Mirror perché taglieremo del vinile adesivo, ma volevo mostrarvi che questa funzione è presente. Quando il progetto sul tappetino è esattamente come lo volete, cliccate sul pulsante verde Continua. A questo punto vi troverete alla schermata di selezione dei materiali che, come dice il nome, vi permetterà di selezionare il materiale da tagliare con la macchina. Per vedere l'intero elenco dei materiali che potete tagliare, selezionate tutti i materiali. L'elenco varierà in base alla macchina selezionata in fase di progettazione. Potete scegliere tra centinaia di materiali presenti in questo elenco, oppure, se sapete esattamente cosa tagliare, usate la barra di ricerca. Una volta trovato il materiale, potete selezionarlo e cliccare sulla stellina a destra. In questo modo lo aggiungerete ai preferiti della macchina. I preferiti si trovano sotto la voce Set Base Material, così da poterli trovare rapidamente ogni volta. Dovete selezionare sempre l'impostazione di taglio su Cricard Design Space, tranne che per Explorer Air 2. Se avete Explorer Air 2, userete il selettore sul lato destro della macchina per trovare le impostazioni di taglio più comuni. Per vinile, termotrasferibili e cartoncino. Io selezionerò le impostazioni del vinile, visto che sto tagliando vinile adesivo. Una volta scelto il materiale, seguite le indicazioni di Design Space e completate il progetto con la macchina. Ora che ne sapete di più sulle schermate di Cricard Design Space, non perdetevi il prossimo video, in cui vi mostrerò come completare un progetto col vinile.